Il comprensorio scistico del ghiaccio dello Stubai è il più grande dell'Austria. La funivia ha una capacità di trasporto di 3.000 persone all'ora e per questo abbiamo proprio bisogno di una funivia potente, sicura e affidabile. Leitner Hopways è un produttore di impianti a fune per il trasporto di persone. Quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti, non esistono compromessi. Questo inizia già nella progettazione degli impianti. Nella soluzione relativa alla sicurezza, di fatto, utilizziamo l'intera gamma della famiglia di controllori Simatic. E per i nostri azionamenti ausiliari, la piccola variante della serie Synamics e le funzioni di sicurezza come STO o il monitoraggio sicuro della velocità o della coppia. Come Siemens forniamo a Leitner l'intera catena di sicurezza, come per esempio l'S70005 della famiglia Simatic, fino a passare all'attuazione del comando safety tramite inverter Synamics e alla loro funzione integrata di Safe Torc Off. Il Simatic S70005 controlla che la cabina si riagganci di nuovo saldamente alla fune, che la forza della molla sia adeguata e che anche la cabina sia nuovamente ben ancorata alla fune. E parallelamente, il trasporto della cabina è monitorato dalla stazione. Se una cabina resta bloccata nella stazione, deve essere riconosciuta dalla tecnologia di sicurezza ed l'impianto deve essere fermato in tempo, prima che si verifichi una collisione. Abbiamo impianti a fune o di risalita veri e propri che utilizzano solo la tecnologia di sicurezza Siemens, ma ci affidiamo sempre di più a combinazioni tra produttori di funevia e Siemens, come avviene attualmente nella 3S-BAN. Tutto è targato a Leitner, incluso l'ingegneria elettronica e così via, ma solo con i componenti Siemens. E questo è importante, perché abbiamo una persona di contatto, non c'è alcuna interfaccia, il supporto è adeguato e ci si può fidare al 100%. Realizzeremo tre progetti con il Simatic S7500 per questa stagione invernale. Il nostro obiettivo è utilizzare Simatic S7500 dalla stagione invernale 2019 per tutti i progetti. Grazie alla tecnologia di sicurezza di Siemens abbiamo un partner competente e affidabile nell'ambito della tecnologia di sicurezza e una soluzione di controllo su misura per le nostre strutture che funziona in modo ottimale.